Sono più di 200 le immagini della Sindone in giro per il Piemonte, 60 solo nella provincia di Torino. Dal 18 maggio al 16 giugno la mostra Sindone ed intorni, un percorso per immagini, composta di 11 pannelli fotografici, le propone nei locali dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale. L'esposizione fa parte di un progetto realizzato dall'Associazione Univoca, composta da varie associazioni di volontariato culturale, con il patrocinio del Comitato per l'Ostensione. Grazie a tutti.